Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Secondo quanto si apprende dalla stampa nazionale e come saprà sicuramente chi segue la notissima cantante Loredana Bertè, l'artista recentemente è stata operata d'urgenza all'ospedale San Raffaele di Milano. I fan si erano mostrati molto preoccupati per lei. Era stato il suo staff stesso a comunicare che il tour della Bertè si sarebbe interrotto a causa di questi problemi di salute e per il successivo ricovero della cantante. In quei concitati momenti si era specificato che la prognosi della Bertè si sarebbe stabilita soltanto in una fase post-operatoria. A quanto pare però oggi la Bertè sta molto meglio e ci ha tenuto ad avvisare personalmente i fan circa le sue condizioni di salute. La cantante ha postato un video direttamente dall'ospedale San Raffaele dove si è recata per una visita di controllo. Ciao, sono Loredana, sono al San Raffaele, sono appena uscita dalla visita di controllo. Il chirurgo mi ha detto che finalmente posso iniziare la terapia riabilitativa. Iniziare la terapia è una cosa fondamentale per poter fare tour. Vi aspetto a luglio in tutta Italia, vi prego, venite tutti, vi aspetto. Ciao, così ha scritto Loredana. Una bella notizia che arriva direttamente dalla cantante, siamo tutti contenti.